Il giallo non è una maledizione, è l'effetto di un comportamento. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, con riferimento alla crescita esponenziale dei contagi per la diffusione della variante Delta. Crescita che Musumeci ha dita al venir meno del sentimento di paura che aveva caratterizzato la prima fase della pandemia. C'è chi rispetta le regole e chi invece ritiene di poter partecipare a un matrimonio con 300 invitati senza che uno solo abbia una mascherina, lamenta. Musumeci sottolinea anche la presenza di due milioni di turisti che inevitabilmente contribuiscono alla promiscuità. Rispetto al rischio di un nuovo colore giallo per la Sicilia, il governatore è il primo a non voler minimizzare e si dice pronto a qualsiasi scenario. Poi parla dei 79 cantieri per riqualificare l'edilizia sanitaria con la creazione in sette mesi di centinaia di nuovi posti letto in terapia intensiva e subintensiva. Immancabile anche l'appello alla vaccinazione e ai medici di famiglia per insistere in un'opera di convincimento di quei pazienti che ancora oppongono resistenza al vaccino sulla base di affermazioni che non hanno alcun valore scientifico. Dopo la fase iniziale in cui la Sicilia ha registrato il maggior numero di vaccinazioni, i cinque decessi che certa stampa, dice Musumeci, ha messo in correlazione con AstraZeneca e che hanno dato fiato ai novax molto più attivi di chi è propenso al vaccino. Grazie a tutti.